Chiara Ferragni riporta in auge gli anni 90, ecco le scarpe Buffalo Un po di tempo fa, Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi fan una foto che ci ha fatto tornare indietro agli anni 90, ci riferiamo a questo scatto, dove per magia riappaiono le mitiche Buffalo, scarpe con la zeppa altissima Non sono loro? No, in realtà si tratta di un nuovo modello di superga, ecco tutti i dettagli. Chiara Ferragni e le Buffalo, ritorno agli anni 90 Che a Chiara Ferragni piacciono davvero tanto gli anni 90 è ormai notizia più che assodata e lo possiamo vedere chiaramente dal suo stile, dal suo beauty look e anche dalla sua linea di capi e accessori privata appena inaugurata, la Chiara Ferragni Collection Durante la Paris Fashion Week, in aggiunta, la fidanzata di Fedez ha condiviso con i suoi fan una foto davvero ammiccante a uno dei simboli cult degli anni delle speech e girls Di cosa stiamo parlando? Ecco la splendida influencer di Cremona che sfoggia a un meraviglioso paio di scarpe da ginnastica con zeppa altissima, che tanto ricordano le mitiche Buffalo, compagne di serate e uscite con le amiche che mettevano davvero le ali ai piedi, con quei 20 o 30 centimetri in più Se la memoria non vi inganna, vi ricorderete che i modelli di scarpe con la zeppa non erano soltanto femminili, ma anche maschili, anche se i colori, in realtà, erano più scuri, sui toni de blu e dellazzurro Dunque, unisex. Le altissime sneakers di Chiara Ferragni, invece, sono panna e fragola, tacco bianco e corpo total pink, perfettamente adeguate a lei visto che il rosa è il suo colore preferito Sono tornate le Buffalo, quindi? In verità, in questo caso si tratta di una capsule di superga per te blonda e salad, disegnata apposta per la Ferragni e per il suo foltissimo seguito Foltissimo e altissimo, a quanto pare, se tutti adotteranno lo stile anni 90 Le retrovibes sui look di Chiara? Tutti i fan più appassionati se le ricordano senza sforzo, a partire dalla sua collezione di swimsuit, che ricalca la moda vintage rilanciando il costume intero Ovviamente, non mancano anche i bikini nella sua summer collection, ma c'è anche tantissimo spazio per salopette e jeans a vita alta, senza dimenticare le felpe con il cappuccio oversize Infine, per quanto riguarda il beauty look, Chiara Ferragni ama moltissimo il ciuffo alto e i fermacoda pastello, altro marchio di fabbrica degli anni più ruggenti. Chiara Ferragni ama gli anni 90, e Fedez la segue E' vero che Chiara Ferragni adora riportare in auge gli anni 90, dobbiamo affermare che anche Fedez ne è totalmente conquistato, come si vede pienamente dalla sua collezione per Berska, in edizione limitata Cappellini, maglie oversize e gimpants con decori molto particolari, ispirati ai coloratissimi tatuaggi realizzati sulla sua pelle dal tatuatore argentino e il manga Per la presentazione di questa capsule, c'è stato un vero e proprio assalto di fan in corso Vittorio Emanuele XXII, dove ha sede il negozio principale della nota Maison Locosta a Milano Il rapper ne è stato davvero orgoglioso e ha documentato tutto con la sua fotocamera, evidentemente emozionato per il tanto affetto corrisposto dai suoi fan . .